Tutto pronto al Palamasciangelo di Lanciano, il centro vaccinale nel quartiere Santa Rita dove da domani si cominceranno a vaccinare gli over 80 e i fragili prenotati, saranno 500 domani le persone che verranno vaccinate e 250 per turno. All'interno ci sono 5 linee di lavoro, in ogni linea ci saranno a disposizione un medico, un infermiere e poi tanti volontari, volontari della protezione civile e del Rotary. La responsabile è la dottorista Manuela Rosato. Assessore regionale Nicoletta Veri, parallelamente alla riapertura che ci sarà ed è prevista anche in Abruzzo, deve andare avanti la campagna vaccinale. Lei oggi è a Lanciano? Sì, sono a Lanciano, qui una sede vaccinale importante che darà una risposta adeguata non solo agli abitanti del comune di Lanciano ma anche di tutto il comprensorio. Continua una campagna vaccinale adeguata nella nostra regione. Ieri abbiamo raggiunto più di 12.000 unità, quindi vuol dire che c'è una programmazione adeguata. Come ho sempre ribadito abbiamo bisogno dei vaccini, ci sono le strutture, qui nella ALS di Lanciano Vasto Chieti ci sono 30 strutture, sia AB che SPOC, aperte anche a giorni al TEN, quindi vuol dire un'organizzazione adeguata. Leo Marongiu, Presidente del Consiglio Comunale di Lanciano, questa è una struttura, possiamo dire, ideale? Ideale perché è al centro di un quartiere dei più popolosi di Lanciano, finalmente apriamo questo centro vaccinale che abbiamo così fortemente richiesto, venga tardi, venga bene. Speriamo che l'apertura di questo centro dia un impulso forte alle vaccinazioni dei fragili over 80, over 70 che stanno aspettando da troppo nel nostro territorio. Grazie. Grazie. Grazie.